Salve, oggi ho deciso di registrare questo video per parlare di Cistinorm. Voglio condividere con voi la mia esperienza di utilizzo di questo prodotto per oltre 4 mesi. Quindi, se siete arrivati a questo video desiderosi di sapere se Cistinorm elimina il dolore, diminuisce il desiderio di urinare, mette fine all'inchiammazione. Se funziona davvero e se vale la pena investire, rimanete fino alla fine del video. Voglio lasciarvi un avvertimento estremamente importante che non vi farà cadere in truffe e non vi farà perdere soldi al momento dell'acquisto. Cistinorm è venduto solo sul sito ufficiale del produttore. Nessun altro sito è autorizzato a vendere questo prodotto. E molti vendono ancora un prodotto contrafatto che può danneggiare la vostra salute. Per aiutarvi, ho lasciato nella descrizione del video e nel commento fisso il link del sito ufficiale del Cistinorm, affinché possiate fare un acquisto sicuro e senza rischi. Dopo aver terminato il video, cliccate sul link per ottenere maggiori informazioni sul Cistinorm. Mi chiamo Ashley e qualche tempo fa soffrivo molto di problemi urinari. Avevo infezioni ricorrenti dell'urina, che mi causavano dolore intenso, minzione frequente, mal di schiena e mi portavano più volte dal medico e, di conseguenza, ad assumere forti antibiotici. Soffrivo anche di perdite vaginali e di candidosi, perché la mia flora vaginale era alterata e squilibrata. Un giorno, parlando con un'amica, mi ha raccontato di aver usato Cistinorm per tre mesi e di aver sentito un'enorme differenza nella sua salute vaginale. Le chiesi dove l'avessi acquistato e mi inviò il link al sito ufficiale, lo stesso che vi ho lasciato nella descrizione del video. Ho effettuato l'acquisto il giorno stesso e in meno di una settimana ho ricevuto il prodotto a casa mia. Ho iniziato a utilizzarlo come consigliato dal produttore, ovvero tre capsule al giorno, due prima di pranzo e una prima di cena. Sono rimasta impressionata da ciò che Cistinorm ha fatto al mio corpo in un solo mese di utilizzo. Ho notato un significativo miglioramento del disagio, del dolore e dello stimolo a urinare frequentemente. In effetti, la mia salute veniva riparata dall'interno. Quindi sì, Cistinorm è un prodotto di cui ci si può fidare. È fatto solo con prodotti naturali, il che garantisce che non avrete effetti collaterali. Cistinorm è un prodotto che funziona davvero e vale l'investimento. Un altro avviso che voglio lasciare è che il sito ufficiale è scontato, ma non so per quanto tempo il produttore manterrà questo sconto. Quindi non perdete l'occasione e cliccate sul link nella descrizione o nel commento fisso, ricordando che hai il link del sito ufficiale di Cistinorm. Ho voluto registrare questo video, innanzitutto per dirvi di fare attenzione al sito dove acquisterete Cistinorm e inoltre, se acquistate il prodotto, fate il trattamento esatto, prendendolo sul serio. Ricordate di tenere presente che i vostri risultati saranno molto diversi da quelli di chiunque altro, perché il vostro corpo agisce in modo molto particolare. Spero davvero che questo video vi abbia aiutato, e spero anche che Cistinorm vi aiuti molto a migliorare la vostra salute, oltre a molti altri benefici che questo prodotto promuove.